Valorizzare i piccoli borghi per arricchire anche dal punto di vista culturale il portafoglio dell'offerta turistica di Valtellina e Valchiavenna. Passa da una ricognizione a tutto tondo dell'esistente il rafforzamento di un settore, quello turistico, già cardine dell'economia locale e destinato a diventarlo ancora più in futuro. Un futuro che vedrà il nostro territorio fortemente coeso, esattamente come si è mostrato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di valorizzazione turistica della destinazione Valtellina, presso l'ufficio territoriale regionale di Sondrio, alla presenza di Lara Magoni, assessore regionale alla partita, che ha definito quello locale un modello virtuoso di turismo. Sono veramente orgogliosa come assessore al turismo perché ho trovato una Valtellina coesa, unita, forte. Forte ma soprattutto oggi la presentazione Valtellina Turismo del programma di promozione ho notato nel modo in cui hanno utilizzato le risorse pubbliche in un modo esemplare. Quindi siate orgogliosi perché siete ben rappresentati. Modello inserito in una realtà di pregio e proprio per questo del tutto spendibile anche nei consensi internazionali come sede delle future Olimpiadi. Io sono la prima promotrice del territorio anche perché adoro le piste della Valtellina. Come tutti conosciamo la pista Stelvio che sarebbe veramente la protagonista assoluta per la discesa olimpica. Una destinazione capace di imporsi anche sui mercati esteri e magari di farlo, come ha proposto Magoni, in tandem niente meno che col Salento, grazie ad un originale gemellaggio fra pizzoccheri e orecchiette destinato al mercato statunitense. Ho pensato di guardare a un turismo internazionale quindi aprendo un percorso interregionale tra regioni Puglia e Lombardia. Abbiamo cinque aeroporti in due regioni, tre Lombardia e due al sud. Io ho pensato di aprire questo percorso queste settimane attraverso tour operator locali dove possiamo fondere tra un pizzoccheri e un'orecchietta le cime di rapa. Gemellaggio che ha colto un po' tutti di sorpresa ma che è piaciuto ad esempio ad Alan Vaninetti, presidente del Bindisondrio, ente sempre disponibile al sostegno della promozione turistica locale. Qualsiasi sono le iniziative che possano lanciare la nostra provincia, il nostro territorio, del Valtellino e della Val Chiavenna a livello nazionale, al di fuori ai nostri confini e portare qualche beneficio per il nostro territorio, tutto è lecito insomma. Pertanto grazie all'assessore che si preoccupa tanto del nostro territorio e che tanto ha a cuore quello che è lo sviluppo globale della nostra provincia. E poi un confronto aperto con gli operatori del settore turistico locale che Lara Magoni ha voluto espressamente incontrare per comprendere e fare proprie le istanze del territorio. In sala al Pirellino erano rappresentati tutti i consorsi turistici mandamentali di Valtellina e Val Chiavenna.